Credo ci sia un attacco in arrivo. Ho bisogno di guerrieri. Pensare a perché ti ascoltano per quanto ti ascolteranno devi dire quello che vuoi dire. La mia vita è solamente una commedia. Pronuncia il mio nome e i poteri scorreranno in te. Alla Umbrella è accaduto un incidente. La gente si ammana. La bestia è reale. Devo cambiare tutto di me solo perché lavoro qui. Questa industria multimiliardaria gira intorno alla bellezza interiore. Un demone molto potente si è legato a questa casa. Janet va tutto bene. Non chiamarmi Janet. Crediamo che la vostra famiglia sia stata maledetta. Marte dovrà avere paura. Ho pregato ogni notte che lui scappasse per poterlo uccidere. Ho pregato ogni notte che lui scappasse per poterlo uccidere. Ho pregato ogni notte che lui scappasse per poterlo uccidere.